Partete! Grand Tropical Strom, più indietro Mujalibbera e più staccata Dina Belfiore. Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con Starting Grid in vantaggio circa tre lunghezze nei confronti di Lady Onoria che ha all'interno Grand Tropical Strom che ora si profila all'inseguimento del leader. Quindi Miss Monopoli siamo a 350 dal palo, Starting Grid sotto la minaccia esterna di Tropical Strom. I due si sono staccati dagli avversari capeggiati da Lady Onoria. Nel tratto finale Starting Grid all'interno è attaccata a fondo da Grand Tropical Strom. Lotta tra i due all'interno, Starting Grid mantiene la meglio e si impone su Grand Tropical Strom e Lady Onoria qui in quarta Mujalibbera. Rivediamo le immagini che la regia prontamente ci ripropone con il numero sei di Starting Grid, Dario Varginz e la scuderia Chimax in primo piano in questa debuttanti per femmine. Prima corsa di Agnano al posto d'onore Grand Tropical Strom, numero due dello schieramento e al terzo il numero tre Lady Onoria. Quindi sei, due, tre il probabile ufficioso arrivo della prima di Napoli.